E quando morio io, non voglio preti, non voglio preti e frati, né paternosti. Non voglio preti e frati, né paternosti, ma voglio la bandiera dei socialisti. E la rigi, 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 la sempre arditi. Evviva i socialisti, abbasso i gesuiti. Abbiamo fatto il big stop! E la rigi, la rigi, la rigi, la rigi, la rigi, la rigi, la sempre arditi. Evviva i socialisti, abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti. L'arresto fu ordinato, o dai ministri. L'arresto fu ordinato, o dai ministri. E questi sono i veri, i camorristi. E la rigi, 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 la e mai la sbaglia. Evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. E la rigi, 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 la mai la sbaglia. Evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. La Francia ha già scacciato i preti e i frati, le monache, i conventi ed i relati. Le monachie convetti e di prelati perché erano tutte spie e in ciò pagano la rigida, la rigida, la rigida, la rigida, la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Ma se Giordano Bruno fosse campato non esisterebbe più neanche il papato, non esisterebbe più neanche il papato. E il socialismo avrebbe già trionfato. E la rigida, la rigida, la rigida, la rigida la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E la rigida, la rigida, la rigida, la rigida la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E quando voglio io, non voglio preti, non voglio preti e frati, né pater nostri, ma quattro bimbe belle, alla mia barella, ci voglio il socialista e la sua bella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rotella, rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rotella, rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. Ma fatti mi sa, scusa ma in box dove stanno? In box dove siamo partiti quasi, dove star Jackie Walker. Dovrebbe stanno, però sai che non ho visto l'entrata. Ehi!